E allora siamo pronti per la partenza con i cavalli entrati nelle gabbie si va partiti cavalli della prima corsa di questo pomeriggio parte bene Alberto Beck subito superato dal suo esterno da Nightcrawler con il quale ha ingaggiato un bel duello almeno all'inizio in terza posizione con la giubba azzurra troviamo Aaron Secret a precedere Checkmark poi zona d'ombra più staccati troviamo gli altri due vale a dire ferro e foco con può succede che è anche il top weight si procede così sempre con lo stesso ritmo in leggero vantaggio Alberto Beck con ai suoi fianchi Nightcrawler di dentro c'è sempre Aaron Secret in quarta posizione in questo momento c'è Checkmark a precedere zona d'ombra poi ferro e foco che si è avvicinato rispetto al resto degli altri concorrenti e lasciano in coda il top weight può succede cavalli che sono a metà curva sempre in due vanno davanti ed in particolare Alberto Beck che di dentro è in leggero vantaggio rispetto a Nightcrawler in terza posizione c'è Aaron Secret poi in quarta troviamo anche zona d'ombra con ferro e foco che sta cominciando ad avvicinarsi e poi lo stesso Checkmark quando siamo addirittura d'arrivo Alberto Beck ha respinto il primo attacco di Nightcrawler è ripartito di slancio all'interno prova ad avvicinarsi al suo esterno zona d'ombra quando siamo a 300 dal traguardo sempre Alberto Beck in vantaggio nei confronti Nightcrawler ma zona d'ombra con un bel passo si avvicina ad Alberto Beck che prova a respingere il primo attacco a 200 dal traguardo zona d'ombra è passato in deciso vantaggio Alberto Beck che tenta la rimonta Nightcrawler che è rimasto sul passo e allora interviene anche ferro e foco ma nel tratto conclusivo zona d'ombra è padrone della situazione vince bene nei confronti di ferro e foco e poi per il terzo posto Alberto Beck Vince dunque zona d'ombra ben interpretato da Damiano Poggi e festeggia nel migliore dei modi anche Germano Marcelli alla sua prima uscita come allenatore ufficiale non solo come giochi i colori sono quelli della scuderia rosso-blu vince il numero 6 dello schienamento nei confronti del 5-6-5 e poi al terzo posto Alberto Beck completare il terno dei primi con l'esultanza di Damiano Poggi che festeggia il Natale nel migliore dei modi vince il 6 nei confronti del 5 al terzo il 4-6-5-4 all'ordine d'arrivo ufficioso per questa prima da Capannella e sesta affermazione in carriera per zona d'ombra è tutto per la prima grazie a tutti